Buongiorno, benvenuti alla Zuppa di Forro di oggi sabato, quando è oggi sabato? Ve lo dico subito, 24, 8, 27 ottobre ovviamente, mi devo leggere gli appunti soltanto per sapere che sabato è incredibile. Grazie a tanti che ieri ci hanno seguito a Matrix e partiamo subito dalle notizie che ci sono sui giornali. La notizia di oggi è il cosiddetto scontro con la Banca Centrale Europea, che in realtà non è un grande scontro, cioè è il continuo martellamento che, devo dire, Di Maio continua a fare nei confronti di Mario Draghi. Draghi, oggi, su questa vicenda, cioè del Movimento 5 Stelle che attacca Mario Draghi, secondo me il retroscena implicito più bello è quello del Fatto Quotidiano. Perché è un retroscena? Perché, come tutti voi ben sapete, il Fatto Quotidiano è lo strillone e travaglio di questo governo nella componente 5 Stelle, a Hugge Giorgio, cioè il fatto difende la componente 5 Stelle. Ma quale componente 5 Stelle difende il fatto? Difende quella, diciamo, di sinistra, quella antisalviniana, quella alla Nunes, quella alla Roberto Fico, per intendersi, quello che ieri ha detto su Desiree, che ci vuole più umore e meno ruspe. Questa è la componente che difende e quindi oggi travaglio prende occasione per dire una cosa che nei fatti io condivido al 100%, cioè dice guarda che tu stai sbagliando su Draghi, Di Maio, e sei molto infantile nell'attaccarlo. E lo stai attaccando perché lo consiglio un neuroburocrate, ma non hai capito che, a differenza di tutti gli altri, che sono in campagna elettorale, i commissari UE, Draghi non lo è e se non ci fosse stato lui, l'Italia non si sarebbe salvata. Insomma, una specie di paneggirico nei confronti di Draghi dal fatto quotidiano. Io appena ho letto questo pezzo dico, beh, rinservito travaglio, cosa sta dicendo? Poi sono andato avanti e ho letto un altro pezzo del fatto quotidiano, quell'apertura di Draghi che Di Maio non ha capito, addirittura un pezzo. E allora se c'è il fondo e il pezzo dico, ammazza, ma come mai questo fatto quotidiano è così antigrillino? E poi ho capito meglio perché ho letto Verderami e tanti altri giornali oggi, Corriere della Sera e altri giornali, in cui mi spiegano una cosa che adesso ho perfettamente colto, così come ho colto l'interpretazione stranamente rigorista e eurocentrica del fatto quotidiano. E quale sarebbe? E cioè che all'interno del Movimento 5 Stelle c'è una lotta intestina contro il capo Di Maio. E questa lotta intestina passa da Di Battista, che fa i reportaggi sul fatto, passa dall'Annutti, pensate un po' voi, l'Annutti! Cioè l'Annutti è diventato un mito, l'Annutti, un uomo che ha passato la sua vita a inventarsi minchiate e consumeristiche. L'Annutti, l'Annutti e le altre componenti del, diciamo, movimentiste, come si può dire, antileghiste del Movimento 5 Stelle. E quindi cosa dice Verderami oggi? Che in realtà l'attacco che ieri ha fatto Di Maio a Draghi, che effettivamente anch'io penso sia totalmente sconsiderato, è stato fatto per far dimenticare, come si dice, un effetto di sostituzione rispetto alle notizie di ieri. Che il Movimento 5 Stelle è la sua base, soprattutto quella che piace al fatto, doveva accettare, cioè che si doveva fare la TAP, cioè sul fatto che c'è una fronda che viene fatta contro il condono fiscale, contro il decreto fiscale. Vi segnalo inoltre che è chiaro che gli erode al fatto quotidiano, perché fino a poco tempo fa prendevano in giro tutti coloro che sostenevano che non fare la TAP sarebbe costata 20 miliardi di euro. E dicevano, quelli del fatto, ma non inventatevi balle, non c'è, è evidente che non costa 20 miliardi di euro, non si fa la TAP e amici come prima. Ma siccome ieri Di Maio e il ministro tanto amato dal fatto Costa, l'ex carabiniere della Terra dei Fuochi, o forestale, hanno detto che le penali per non fare questo 8 chilometri di tubo sarebbero costate 20 miliardi, cioè l'ha detto Di Maio, hanno mandato a monte tutte le stupidaggini che ci avevano raccontato negli ultimi anni, e cioè che la TAP era inutile, che la TAP non era fondamentale e soprattutto che non ci sarebbero stati penali nel non farlo. Come ci sono le penali per la Torino-Lione, come ci sono le penali per tutte quante le opere pubbliche che sono state iniziate. Ovviamente Piagnucola Di Maio in una retroscena oggi ci hanno blindato quei cattivoni del passato, ma secondo voi, quando tu fai un contratto per un gasdotto di 900 chilometri, tu non ti blindi, tu non fai dei contratti che siano a prova di bomba, tu non fai dei contratti... La penale ce l'ho anch'io se non mi presento in televisione, e secondo voi invece l'Azerbaijan, la Turchia, la Grecia, la TAP, e quello che volete non prevedono contratti con clausole per cui se uno alla fine si toglie dalle scatole deve pagare una penale. Ma dove vivete? Forse vivete appunto nelle bibite del San Paolo o nella politica, diciamo, proprio di quella di quartiere, che peraltro conosce bene queste cose se uno l'avesse fatta. Standard & Poor's in realtà non boccia l'Italia. Questa è una cosa clamorosa, vorrei sentire i fubini, tutti questi che godono come i ricci quando l'Italia viene bocciata, i forza spread li definirebbe telese, Standard & Poor's non ha bocciato l'Italia. La più cattiva delle tre agenzie di rating ha sostanzialmente cambiato l'outlook da stabile a negativo, e ci mancherebbe con sta manovra schifosa che facciamo, ma non ha rivisto il voto in pagella. Quindi la notizia oggi sui giornali è, Standard & Poor's incredibile, ma a dispetto dei gufi, come direbbe Renzi, non declassa l'Italia. Chiaro? Pensa quanto stanno rosicando. Io sono ben contento che questa cosa sia andata meglio del previsto, se no erano guai. Poi sulla questione Desiree, la cosa fondamentale, vabbè ci sono tutte le questioni di cronaca, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Matrix, ma la cosa fondamentale è questa cosa incredibile di Fico che dice ci vuole più amore e meno ruspe. Ecco, una cosa di questo tipo, ragazzi, parliamoci chiaro, basta leggersi oggi Ricolfi. Ricolfi oggi sul Messaggero dice la delinquenza comune dal furto allo spaccio è una conseguenza della povertà e della disuguaglianza, e dunque va trattata con riguardo. Questa è la tesi tipica della cultura finto progressista. E secondo questa logica ci sta Fico, ci stanno tutti quanti gli amichetti suoi della sinistra che prima stavano nel PD e che tanto amano gli atteggiamenti buonisti dei quartieri, e questa delinquenza comune vuol dire occupazione delle case, la tolleranza degli incidenti, delle intromissioni nei quartieri, delle manifestazioni violente. Ecco, questo dice Ricolfi, smettetela con questa cultura finto progressista per la quale non è che muore e si uccide Desiree, ma non si risolvono le situazioni per le quali Desiree si trova in quella condizione. Riguardo Desiree vi segnalo soltanto un'altra cosa, cioè quella che due pezzi, uno di Romagnoli e l'altro di Feltri, dicono, beh, però certo Desiree viene da una famiglia davvero sciagurata. Pensate, ricorda Romagnoli, l'eterogenesi dei fini, anche se lo scrive con Dendola, con il solito suo bonismo, diciamo, talvolta un po' stucchevole, ma pensate, questo è molto saggio, Romagnoli quando sulla stampa dice, pensate un po' voi, che cosa, che paradosso, il fatto che il padre, che è uno spacciatore e che è stato denunciato per stalking, e quindi la figlia si è allontanata dal padre, questa Desiree è uccisa e morta l'altro giorno, bene, il padre l'ha di fatto involontariamente spinta via dai suoi amici spacciatori italiani nelle braccia tragiche degli spacciatori nigeriani. L'ultima questione che vi voglio raccontare, le ultime due, sono una, beh, sul caso di Lodi. Dovete sapere che Lodi è una città gemellata con Fontainebleau e Costanza. Oggi c'è un piccolo colonnino che ricorda come le due città abbiano scritto a Lodi una lettera in cui hanno detto, non vogliamo più fare il gemellaggio con voi, siete dei razzisti, ci vergogniamo del vostro atteggiamento sulle mense. Io direi che insieme ai comuni denuclearizzati, i gemellaggi delle città sono una delle più grandi favole, stupidaggini, cretinaggini, imbecillità che ci sono in questo paese, e direi in tutta Europa, chi se ne frega di gemellare? Sapete a cosa servono i gemellaggi? Vabbè, la città denuclearizzata, quella per la pace, eccetera, a quelle io già farei, come posso dire, le recinti intorno e poi isolerei tutti gli amministratori che hanno deciso di renderla denuclearizzata. Ma non è questo il punto. Quando ti gemelli, sapete a che cosa serve? Serve per andare in qualche cittadina, a farsi qualche giro in giro per il mondo, pagata dai contribuenti di quella città, in virtù di un gemellaggio in cui ti trovi con la tua fascia tricolore e ti fai pagare per farti il viaggetto all'estero. Tra l'altro mi piacerebbe vedere, non so, una città gemellata con, non so, qual è il paese più brutto del mondo? Perché non sono nessune, sono gemellate con qualche paesino della Siberia? Non lo so, comunque a me sto gemellaggio, quelli che ti dicono l'odinum, ma vaffa, ma andate a quel paese, insomma, avete capito. L'ultima cosa a proposito dei gemellaggi riguarda il Corriere Messaggero, cronaca di Roma, sentite questa perché è una roba che mi fa venire i brividi rispetto a come spendono i miei soldi, 24.000 dipendenti pubblici, 50.000 se considerate anche le municipalizzate, alla faccia della signora Buongiorno che vorrebbe diventare sindaco di Roma, da ministro della pubblica amministrazione, inutile come oggi, quella che vuole assumere 460.000 nuovi dipendenti pubblici. A Roma ce ne sono 24.000, secondo il Comune di Roma, un'inchiesta del Comune di Roma, sapete quanti giorni di permesso, congedo, malattia, 104, e più ne ha, chi più ne ha, più ne metta, si prendono ogni anno i dipendenti di Roma, su 24.000 loro hanno 30 giorni di ferie e 27 giorni di permessi. Allora, abbiamo bisogno di assumere qualcuno ancora al Comune di Roma o a prendervi a calci del sedere e andare a controllare uno per uno se non stanno rubando i nostri soldi? Cosa pensate voi? Tra le due opzioni, quali pensate? Quale opzionate? State con la buongiorno che vuole assumere più gente o state con chi, come sottoscritto, vuole quello che Salvini direbbe la ruspa, se tu stai a casa pagato da me ti faccio un mazzo così perché è la fila che faccio in più per avere un documento all'anagrafe, è l'autobus che non passa, è la metropolitana che cade, è il giardiniere che non pulisce il prato, quindi sono pagati da noi, chiaro? Invece di fare l'amore, 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 pensate a controllare i nostri dipendenti che lavorino, perché se io non lavoro mi fanno un mazzo così, se voi non lavorate mi fanno un mazzo così, chiaro? Direi che per oggi è tutto, se vi piace questa zuppa condividetela, più tardi il pezzo sul sito nicolaporro.it, ormai si è pegato, mostraci la tessera della Lega, benissimo, la tessera della Lega, hai proprio capito, hai colto tutto quanto, ci sono dei geni, e poi bisogna lavorare meglio e di più, va bene, un saluto a tutti quanti voi, tessera della Lega non ce l'ho come tessera di nulla, ho avuto negli ultimi vent'anni, anzi una ce l'avevo, che era della gioventù liberale. Ciao!